salve amici oggi andiamo a esplorare una tendenza molto importante che è appunto le app che riconoscono gli oggetti cominciamo con l'ultima arrivata il terzo occhio third day ok che approdata sull'app al vis da ieri ha preso delle pessime recensioni invece a me funzionano molto bene allora cominciamo con la schermata la schermata principale è fatta di due pulsanti quadrati che occupano tutto lo schermo RECOGNIZZE DIS e READ DIS leggi questo io ho provato RECOGNIZZE DIS quindi punto la macchina fotografica piuttosto vicino e siccome l'app non mi permette di inquadrare l'oggetto lo dico per l'ipovedente scatto alla ceca due volte RECOGNIZZE DIS ecco infatti secondo me ho scattato troppo alla ceca e lui invia la foto ai server si dicono di tap tap si per riconoscere l'oggetto poi ci restituisce quindi è necessaria una connessione internet come vedete è una scatola di medicine ok proviamo con un altro oggetto vediamo tappo due volte RECOGNIZZE DIS pulsante ritorno alla schermata principale RECOGNIZZE DIS pulsante e di nuovo RECOGNIZZE DIS non è molto esplicita però vediamo ho scattato un altro oggetto lui prende sempre la foto vediamo SILVER SPAWN SILVER SPAWN ha riconosciuto solo il cucchiaio e non il bicchiere un ultimo oggetto RECOGNIZZE DIS pulsante RECOGNIZZE DIS RECOGNIZZE DIS RECOGNIZZE DIS ok è in inglese vedete che è in inglese white smartwatch white smartwatch questo è il terzo occhio third day ok adesso andiamo a vedere andiamo a vedere AIPOLI AIPOLI VISION AIPOLI VISION riconosci in tempo reale quindi appena aperta l'app c'è sopra il tasto HOME c'è un pulsante TOGLE AIPOLI che deve essere attivato TOGLE AIPOLI TOGLE AIPOLI PUSSANTE TOGLE AIPOLI PUSSANTE Eccolo qua non dice né quando è attivato né quando è disattivato allora proviamo TOGLE AIPOLI PUSSANTE TOGLE AIPOLI ENVELOPPE ENVELOPPE la scatola di medicina lui pensa che sia un envelope senza scattare la foto sposto la videocamera SPON 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 anche lui non riconosce i bicchiere che è piuttosto scuro WINE WINE KNIFE KNIFE ADDIRITORO L'APPOLUOCE è diventato cortello questo è diciamo sto puntando la macchina fotografica CAGE CAGE questo addirittura non lo so neanche io cos'è SOFA SOFA DIVANO SOFA l'ha riconosciuto DOR PORTA vediamo se riesce il quadro DOR DOR il quadro è diventato vediamo il mio alberino di Natale CRISMAS CRISMAS l'alberino di Natale ha diventato CRISMAS CELVES la tv niente proprio zero vediamo la finestra BLINDS gli scuri computer sta cercando di riconoscere però come capite anche voi ha i suoi limiti e poi torniamo su TAPTAPSEE che ovviamente è quella che conosciamo da anni allora intanto TAPTAPSEE ci permette di inquadrare l'oggetto prima di scattare la foto e poi ha tutti quei suoni acustici la library pulsante share pulsante about pulsante camera pulsante ok ha scattato la foto PICTURE UN IN PROGRESS ci da i feedback PICTURE UN IN PROGRESS PICTURE UN IN PROGRESS anche lui ha riconosciuto la scatola delle medicine vediamo camera pulsante ok la seconda foto camera pulsante PICTURE UN IN PROGRESS vediamo la seconda PICTURE UN IN PROGRESS PICTURE UN IN PROGRESS PICTURE UN IN PROGRESS PICTURE UN IN PROGRESS ok non solo che mi ha riconosciuto il cocchiaio ma anche la tazza in ceramica vediamo la terza prova ok come vedete mi da la via libera allora vediamo vediamo library pulsante share pulsante about pulsante camera PICTURE UN IN PROGRESS ok ho tutti i feedback PCTREC PICTURE UN IN PROGRESS PICTURE UN IN PROGRESS PICTURE UN IN PROGRESS può essere anche abbastanza precisa e esplicita abbiamo visto tre app due appena prodotti sull'Apple Store quindi Terzo Occhio, Third Day, Air Poly Vision e TapTapC e abbiamo visto come a secondo le varie modalità loro hanno riconosciuto più o meno gli oggetti diciamo anche il Terzo Occhio è un'app che promette abbastanza bene perché io ho scattato 3-4 foto e devo dire che ha sempre funzionato